Tre giorni di dibattiti, confronti di idee, ricchi di spunti, con al centro il tema dell'innovazione, applicata ad ogni campo del sapere, partendo dal mondo delle imprese per passare a quello della legalità, finendo a quello della sanità. E' stato questo, in nuovamenti, il Festival dell'Innovazione organizzato presso il maestoso complesso monumentale dei Gesuiti di Vivo Valencia, dall'assessorato all'innovazione guidato da Michele Falduto. Tantissimi relatori che hanno saputo coinvolgere il pubblico presente, formato alla mattina soprattutto dagli studenti, che secondo gli ultimi studi considerano il nostro paese ancora troppo poco competitivo in ambito digitale. Ma che, nonostante i dubbi che potrebbero emergere in ambito lavorativo, pensano che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale creerà nuove tipologie di lavoro e settori di business da esplorare, quindi anche nuove opportunità lavorative per gli esseri umani. E' proprio di questo che si è parlato con Giancarlo Vinacci, presidente della Fondazione Vinacci Think Tank, ed ex assessore con delega allo sviluppo economico del Comune di Genova. Io credo che intanto è molto raro trovare una platea così bella di giovani. Poi abbiamo il dovere di dire loro come stanno andando le cose veramente e abbiamo provato anche a mettere in risalto quelli che sono i potenziali di questo territorio. Sicuramente qui c'è un grande potenziale, però per poter riuscire bisogna impegnarsi, bisogna avere chiare le regole per far partire un'azienda che sono idea che deve diventare sostenibile, trovare la finanza, l'avviamento della società. Credo che non ci siano assolutamente problemi a continuare a dare un'immagine rispetto a quella di qualche decennio fa della Calabria, perché oggi le autostrade infrastrutturali sono digitali, per cui chiunque abbia un'idea è in grado di poter colloquiare con il mondo intero. E i calabresi nel mondo hanno fatto delle cose davvero molto importanti e ricoprono ruoli importanti. Forse non è più necessario spostarsi per fare qualcosa di buono. Lei oggi ha parlato di Open Innovation, di che si tratta? L'Open Innovation è un cambio di passo, quindi veniamo da un periodo in cui c'era la close di Innovation e quindi brevetti, segreti industriali. Le aziende che scoprivano qualcosa di nuovo campavano con questa nuova attività per 10-20 anni. Oggi è tutto veloce, si brucia tutto. Oggi le aziende parlano di hackathon, che sono una sorta di gioco a premi lanciate dalle grandi aziende per raccogliere le idee dei giovani e farle funzionare. Quindi in genere in due giorni chiedono delle idee su temi specifici, le analizzano, premiano i giovani e partono. Si parla di incubatori per le start-up, di acceleratori per le PMI. Le pubbliche amministrazioni lanciano le calls for idea per sviluppare settori che vogliono sviluppare, quindi richiedono progetti specifici in quel settore e finanziano, molto spesso anche a fondo perduto, i giovani che presentano delle idee. L'Open Innovation è qualcosa di assolutamente veloce, un cambio di passo rispetto al passato. Oggi bisogna cavalcare l'onda giorno per giorno, una volta si entrava in banca e si arrivava alla pensione sereni. Non è più così.